La decisione della prefettura di Genova di individuare una zona della città dove realizzare un centro d'accoglienza straordinaria per i richiedenti asilo è conseguenza del piano ANCI naufragato dopo la bocciatura di diversi sindaci. Il progetto originario prevedeva un sistema di protezione di richiedenti asilo rifugiati con un tetto massimo di 6043 profughi per tre anni da accogliere in aree omogenee con il placet dei primi cittadini. In questa maniera veniva escluso l'intervento diretto delle prefetture che invece ora potranno inviare i migranti in ogni comune che abbia possibilità di accoglienza anche se le amministrazioni sono contrarie. Lo stesso sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori ai microfoni di Imperia TV aveva bocciato a priori il sistema degli Sprar dichiarando che se il governo e quindi le prefetture volevano inviare i profughi nei comuni dovevano assumersene le responsabilità senza addossarle ai sindaci stessi. Intanto sulla questione è intervenuto anche il segretario della Lega Nord Matteo Salvini che ha invitato i sindaci del proprio partito ad una dura presa di posizione. Se vedete la chiamata della prefettura mettete la segreteria telefonica o se vedete una mail mettetela in spam ha detto Salvini. Quando saremo al governo bloccheremo gli arrivi.